Sì, io volevo sapere quanto tempo impiega uno per giocarla. It took about three hours and first I went to the contact lenses and then I went to the face and the spring, the face and the touch of the chin about three hours. Circa tre, se ne se volete adondando, poi si passa a chiuso, mi viene diciamo spruzzato uno sprang, e poi, diciamo, si passa il tatuato, non si muove. Salve, volevo chiedervi se avevamo lavorato in precedenza o qualche altro membro del cast e, diciamo, durante invece la lavorazione, se aveva apprezzato qualche membro del cast in particolare, soprattutto chi e per quale motivo, grazie. Yeah, I acted with other big actors like Santo Jackson, New Zealand actors like Jayla Gaea, English chapters, like you know, the Emperor, the Wings Towers, that's my favorite character because I think he's a very actor and he brings out his character, though he's a Sith, but he brings out his character and he brings out the very strong and he does the Chi, you know, he brings out his character in a very strong language. So, basically… I think he's also a very strong idea, he'd put out his character in somewhere in the same hand. He's a very strong influence on the other, but my true character was the character in the kind of character, he's a real character, he's a real character, he's a real character. He's a real character. E' un personaggio molto importante. Sì, io ho sentito una scelta, io ero molto animata, ma non potrei dire nulla perché è stato molto meraviglioso. Ma è stata una buona esperienza per vedere come si valutano ciò che hanno fatto e che hanno apprezzato molto bene. Sì, io è talmente impressionante, vedendo che non riuscivano a parlare, però è davvero bello, è interessante le azioni che provociano il loro lavoro. E come si è in grado di svolgere il loro studio? Ma... ma come si è sentito quando appena si è in grado di svolgere il cast, nello studio? Wow! E' stato un po' differente, perché la maggior parte del lavoro che ero facendo prima, il set era in grado di svolgere. E' stato un po' 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 un po'. Innanzitutto mi sono venuto, mi sono venuta ad andare al fatto di divergere le scene in dove. Quindi io ho in grado di studio, il mio studio, il mio studio, il mio studio, il mio studio. che stava facendo la mia make up e il prossimo sito appena ad un altro quadro quindi lei poteva venire e fare la make up ma era anche impressionante che stia là e vedere come fare la make up ma è stato molto interessante e non lo so è stato un lavoro si senti davvero bene era come un lavoro ma era un lavoro che mi piace poi ho dovuto affrontare la fase del tour e il Leslie mi occupava tre ore e la Leslie accanto a me e la sinducana del Porta che era molto interessata a come mi avevo toccata io le persone che si conoscono in questa strada in Italia si 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 dipende dove sono negli stati mi riconoscono abbastanza facilmente, dato che ho partecipato a diverse college, quindi riconoscono il mio viso. L'aspetto positivo è che ho ancora un meno imparso. Volevo chiederle se ha conservato qualcosa del suo making personalmente. Ma i miei costumi sono in... come ti chiamano che sono un attraverso? Sì, perché i miei costumi sono in attraverso e non mi rendo consenso che tutti i miei costumi sono in attraverso. Credo che posso fare i miei costumi. Posso fare io? Giacomo, direi di interrompere per un attimo le domande dal pubblico poi...